Spesso che c'è questa grande intesa è il personaggio di Veronica A me non me ne frega un cazzo di fare il ministro, io li voglio decidere i ministri Voglio sapere subito, un governo di 1994 fatto da voi attori, quale ministero scegliereste e quale proposta a chiappa voti proporreste? Io come da attore non riesco a fare l'attore, però se da cittadino sicuramente il ministro dell'agricoltura E io dell'ambiente, insieme possiamo fare grandi cose Uniti anche nel governo fantasma, perfetto Grazie, dovrebbe essere anche un modo per, poi discutiamo della tua carica, però la mia sicuramente può essere all'altezza Ma certo, braccio rubato in tutta la vita Questa invece ha questa grande intesa è il personaggio di Veronica Il personaggio di Veronica mi sembra un po' una grande metafora dell'Italia In una di queste puntate si dice che lei ama sia Pietro che Leonardo Uno perché la ama per come è, l'altro per come potrebbe essere Ecco, secondo voi è così anche per noi italiani? Perché andiamo sempre da quello che in realtà ci ama per come siamo e sa i nostri vizi? Perché devi fare meno fatica secondo me a mascherare e a creare un personaggio che non si... No, secondo me faccio un po' spoiler con questa... Andiamo un po' avanti nel... Andiamo un po' avanti nel... Però la crisi c'è sempre davanti a questo, come sono e come potrei essere, no? Ed è lì che è il conflitto, è lì che dove i personaggi diventano... Si accendono e si fanno più prepotenti e interessanti Non so se Veronica è la grande metafora dell'Italia Sì, neanche io penso che sia la grande metafora dell'Italia, spero almeno Speriamo di no Parliamo allora del bene, tra virgolette, e del male Vediamo che il bene qui deve lavorare il doppio per pareggiare i conti col male Perché vediamo che Di Pietro e la sua squadra lavorano anche di notte Secondo voi è così? Cioè il bene per riuscire a contrastare il male veramente ci deve mettere l'impegno o no? Assolutamente È più facile... Anche il male per contrastare il bene, ti dirò No, però è più facile, più automatico, diciamo, agire nel male per agire nel bene Ci vuole un lavoro, ci vuole una costruzione, ci vuole molto impegno Ci vuole molto più coraggio, diciamo Sì, ci vuole più coraggio e più volontà È più facile essere stronzi che non esserlo, insomma E poi infine, noi vediamo qui che un sacco di scelte politiche importanti che devono influenzare il futuro di un paese Sono prese su delle basi assurde, tipo dei fiori che appassiscono Oppure delle rivalità in amore Quindi come siamo messi secondo voi? È veramente così? In mano a chi stiamo? No, questo non è un documentario, è una serie pop Per certi aspetti che mischia bene le cose Perché se no sarebbe un documentario sulla politica Non c'era bisogno Anzi, attraverso gli avvenimenti di questi personaggi di finzione Raccontiamo quegli anni Sono funzioni poi per raccontare Per cui non è l'intenzione di nessuno a raccontare Essere così presuntosi da dire com'era e com'è Questa è una serie fiction, una serie Di finzione, quindi immaginare poi il retroscena Poter, come in un romanzo, raccontare quello che potrebbe essere stato Ok, grazie mille Grazie a te Il futuro è ancora tutto da scrivere